Ciao appassionati dell'Inter, secondo le fonti riportate da TuttoSport, l'Inter sta considerando Taillon Buchanan come una possibile opzione per sostituire la probabile partenza di Denzel Dumfries verso la Premier League. Con il valore del giocatore in aumento, il giovane esterno canadese ha attirato l'attenzione del team di scouting dell'Inter durante la partita tra Club Brugge e Benfica, continuando a seguire le sue prestazioni durante i mondiali del 2022 in Qatar. Ausilio e Bacin, membri del team tecnico della squadra, hanno osservato il giocatore in campo per valutare le sue potenzialità come ala, grazie alla sua velocità, tecnica e capacità di segnare. L'acquisizione di Buchanan potrebbe essere vista come un tentativo di rafforzare l'attacco dell'Inter, mentre la partenza di Dumfries potrebbe aprire un vuoto in difesa. La squadra sta monitorando il mercato per trovare le soluzioni migliori. Lascia un like se vuoi ricevere le ultime notizie dell'Inter e torneremo presto con gli aggiornamenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti.